Nel Vangelo di oggi Matteo racconta la sua chiamata. È il momento decisivo della sua vita e ce lo racconta con grandissima sobrietà. Gli basta un versetto, una riga per dire la cosa più importante che gli è capitata. Dovremmo fare un applauso a questa sobrietà. C'è qualcuno che quando comincia a parlare di se stesso non smette mai. Matteo si accontenta di un versetto soltanto. In questo versetto c'è tutto il miracolo della sua esistenza. Da uomo seduto, quasi imprigionato, paralizzato, è un uomo capace di seguire. È bellissimo rileggere questa chiamata perché si dice che Gesù vede un uomo, non vede anzitutto un peccatore, un esattore delle tasse. Vede un uomo, vede un'umanità profonda nascosta magari dietro un mestiere non appropriato, dietro un personaggio ambiguo, un personaggio mal visto per il suo mestiere dalla gente che lo incontra ogni giorno. Gesù vede un uomo, vede l'umanità e la bellezza nascosta in questa persona che da imprigionata nei propri affari diventa libera e capace di seguirlo. Con un particolare molto bello. Se andiamo a rileggere la medesima narrazione nel Vangelo di Marco e di Luca scopriamo che non si usa il nome Matteo ma si usa il nome Levi. Sono la stessa persona. Matteo parlando di sé dice io sono Matteo e non è una cosa da poco perché Matteo semplicemente significa dono di Dio. Io sono dono di Dio ed è quello che dovrebbe dire ciascuno di noi. Tutte le volte che avvertiamo anche la silenziosa voce di Dio, tutte le volte che pensiamo a noi stessi nel corso della giornata dovremmo dire sono dono di Dio così come sono. In mezzo ai miei pasticci, in mezzo ai turbamenti della mia vita, a quello che non funziona e non va bene, io sono dono di Dio. Posso essere sempre chiamato da Lui, invocato da Lui, fatto uscire dalle mie lentezze, dalla mia paralisi per incominciare con gioia a seguirlo in un'umanità nuova che mi rivela il mio essere dono. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.